cerchialo di là saluti buonasera ah già siamo pronti tutti i giornali stanno qua il tema di quest'anno qual è ragazzi? facciamo? e come si chiama? ah chi sono? io ora la prima volta vengo bellissimo tutti i bambini vanno pazzi tutti i bambini vanno pazzi ah e tu sei un maestro cartapestaio come ti chiami? chiamo Antonio Antonio siamo pronti subito dopo di te basta che si è asciutto per i nevi tuoi e lo so che nel cuore della notte arriveremo al top degli aiuti grazie a tutti grazie mille